mi fai un tezzonato mi girai la testa, mi girai la testa primo, tu tiri di amè tiri quei cazzottoni, sai perché? non vedi? se tu li vedi? primo, li disituci tra destra mi giri la testa, stai così guardo, io non uso di guardarlo lascia bene che cos'è la spinta? ti romani di risetto, ripiamo vedete se manca due tre lecce non posso farlo avrei scusate vieni ok vai vai ok yuko un second un minuto yuko vai 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 ah 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 yuko 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 20 seconda vai 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 ah stop It's I'm I'm Grazie a tutti.